Wow, cos'è successo adesso? Stavo stabilizzando la telecamera per farmi la ripresa video e stava veramente cadendo il tutto ma non si è visto perché stava proprio iniziando, sai, proprio ha impostato il timer di ripresa, 3, 2, 1, in quella frazione di secondo non si è visto. Comunque, oggi le cose più importanti sono in cui iniziate, non so come fare questo video, come spiegare la situazione e non mi rendono le parole, allora è cominciato il tutto che mi sono alzato alle 9 di mattina, circa più o meno, e non avevo notato la differenza di pressione tra ieri e oggi, non il meteo, il meteo. E si vede benissimo che va su una scala, proprio 922 millibar, non è chissà che, dovrebbe essere, beh, 922 millibar, 18 gradi, 833 metri. Dove sta il fattore? Ti dico dove sta il fattore? E nei commenti, sto tremando per quello, nei commenti ci siamo commentati scritti, no, non faccio ancora il nome, non mi agendo, come si dice. Tu, dico a lei, quella bionda che mi ha scritto dal Friuli che è spaziale, cioè è un angelo, sei un angelo, bionda, tu sei un angelo. Io mi sono emozionato subito quando visco la tua foto, scusa te lo dico, ma mi è capitata di donne e di bionde, ma come te, forse, forse magari tu sarai quella che ci incontreremo, come mi hai scritto. Spero che mi vieni a trovare qui, calano le luci, e, ah, le luci, le luci si registra, azione, devo fare tutto da solo, ok? E dicevo che magari tu, quando ci troviamo, se possiamo semi-abbracciarci, non lo so, voglio sentire il tuo profumo, proprio come dice, è presente la canzone Gianna Nannini? Voglio il tuo profumo, oh, capito? Ecco, perché una bionda così, scusa se lo ripeto, furlana, della furla mia, no? Bionda, con quegli occhietti lì, la cerbiata, adesso mi stai facendo delfibillare il cuore, scusa. So che forse non ci conosciamo, però sai, sono queste cose. Comunque oggi la giornata, torno a dire, è cominciata così, che, veramente, angeli, bel tempo, sole, alta pressione del meteo, il meccanico che mi vuole tornare con lui a fare lavorare l'officina, la macchina che la cambio anche quella e prendo anche un trial, il supernalotto che so di vincere domani, è tutto così la vita per me oggi, è come se, non per vantarmi, ma, se, gli angeli stanno scendendo su di me e mi stanno, con la loro ala protettiva, mi stanno proteggendo, come in un nido, e io chi sono io, sono troppo buono, ciao bionda, ti voglio bene. Grazie.